Eccomi qui, questo anno sta svolgendo al termine, sarà che le feste mi portano sempre tanta gioia, sarà che in questo anno ci sono stati tantissimi cambiamenti, tra cui l'apertura del canale, la conoscenza di tantissime persone speciali, ma volevo approfittare di questa gioia che ho nel cuore per augurarvi a voi e tutte le vostre famiglie un sereno Natale e un felice anno nuovo. Spero che lo passiate in serenità con le persone che amate. Un bacione grande, ancora auguri di Buon Natale e continuate a seguirmi e a sostenermi. Grazie per la visione!